La bici politana sta per raggiungere qualche centinaio di metri, tra i più significativi quelli di Via Fratti, un lavoro complesso che sta per vedere la luce. Sì, devo dire che è un lavoro complesso, soggetto a molte critiche perché è grande e stretto, ci sono i cordoli, le macchine non vanno piano, le biciclette in mezzo alla strada. In sostanza è una ciclabile di due metri e mezzo con il cordolo di protezione, a doppio senso di marcia, con oltre 50 alberature già messe a dimora, con un'illuminazione nuova, che ci permette di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in un tratto dove i cittadini dicevano che si va troppo forte, ogni tanto c'è un incidente. C'è un pericolo vero e noi abbiamo ampliato la nostra bici politana in un tratto strategico e completato il lavoro della ciclabile andremo a realizzare anche la rotatoria all'intersezione con Via Madonna di Loreto, appena termineranno i lavori di Via Carloni perché non vogliamo mettere in ulteriore sofferenza quel tratto stradale. Contemporaneamente partiremo con la progettazione della ciclabile su Via Giolitti perché poi l'obiettivo nostro è quello di arrivare da Via Flaminia a Via Milano con la ciclabile. Perché questo? Perché quando è nata Via Giolitti, Via Ponchielli, Via Frati, era una sorta di circonvalazione della città, ora con i lavori su Via Carloni, con tutti i lavori complementari che Società Autostrada sta per partire, quella sarà una via urbana, non sarà più la circonvalazione della città e ci sembrava giusto mettere in sicurezza i pedoni, mettere in sicurezza i ciclisti e dare una dimensione diversa a quel pezzo di città. Il lavoro si terminerà nel giro di qualche settimana, la cifra impegnata è oltre 400 mila euro, compresa le rotatorie, compresa l'illuminazione perché se fate un passaggio di notte vedete che è cambiata totalmente la dimensione di quel pezzo di città e ripeto ci sono state, come succede spesso, molte critiche, però contiamo di aver fatto un buon lavoro e di dare un buon servizio alla città.